Il titolare di un panificio di riposto invita una ventona ad indossare la maschera di protezione e scoppia subito il finimondo. I carabinieri della stazione di riposto hanno arrestato nella fraganza di reato un 37enne di Giare poiché è ritenuto responsabile di resistenza e violenza pubblico ufficiale nonché lesioni personali. L'arrestato ieri sera intorno alle 22 si è recato nel panificio della centralissima via Archimede a riposto accanto a piazza San Pietro per acquistare del pane senza però indossare la mascherina di protezione. Il titolare del palificio ripostese un esercizio commerciale a conduzione familiare anche per non incoroni pesanti e sanzioni ha subito invitato il cliente ad indossare il dispositivo. Per tutta risposta il 37enne Giarese parecchio infastidito per il richiamo verbale si è scagliato contro il panettiere e i familiari di quest'ultimo accorsi in difesa del congiunto spintonando violentemente anche i carabinieri nel frattempo accorsi che tentavano di riportarlo alla calma. Nel bel mezzo della baruffa i carabinieri tra non poche difficoltà hanno poi bloccato l'aggressore rendendolo inoffensivo lo hanno poi ammanettato. Il titolare del palificio di riposto e i suoi parenti tra i quali due donne sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale del Cigale per avere patito tramui in diverse parti del corpo guaribili tutti secondo i referti entro i dieci giorni. L'arrestato assolte le formalità delito è stato poi condotto agli arresti domiciliari.